Presidente Di Maio, importante finanziamento europeo per il porto di Civitavecchia per unire sempre di più Civitavecchia a Barcellona con le autostrade del mare. Sì, effettivamente è un progetto che abbiamo portato avanti a Bruxelles, che è stato riconosciuto meritevole di finanziamento da parte della Commissione Europea, sia importantissimo per rafforzare ulteriormente questo collocamento con Barcellona e quindi questa autostrada del mare, perché ormai di questo stiamo parlando, di una autostrada del mare che, come ho sottolineato oggi in questa bellissima sala, è una autostrada del mare che non finisce a Civitavecchia e non finisce neanche a Barcellona, ma ha un proseguimento verso l'Adriatico e poi per proseguire verso la Croazia. Quindi parliamo ormai di un corridoio intermodale in cui la dimensione marittima è prevalente. Quindi speriamo che questo corridoio possa generare ulteriori traffici e quindi sviluppo dell'economia di Civitavecchia e del territorio. Arriveranno 2 milioni e 200 mila euro circa che serviranno per completare la parte proprio destinata al traffico commerciale e dove una parte un po' importante ce l'avrà l'almatore Grimaldi, quindi avete finalmente sottoscritto questo protocollo utile per l'automotipo. Sì, questo progetto ovviamente è qualcosa di diverso dal protocollo. Grimaldi ha sostenuto questo progetto perché lui è il vettore marittimo che collega i due porti. Attualmente ogni giorno, quotidianamente, abbiamo una linea che parte da Civitavecchia e va verso Barcellona. I due milioni e due andranno per sostenere dal punto di vista finanziario la realizzazione di un'importante banchina, cioè un pennello che sarà parallelo all'attuale 28, che consentirà quindi di avere ulteriori banchine in quest'area che si chiama la Darsena Traghetti. Quindi in quell'area lì stiamo cercando di strutturare, di fare interventi che possano essere fondamentali e utili per avere una presenza strutturata anche di armatori in quell'area. Per quanto attiene il protocollo d'intesa, esso invece si riferisce alla presenza, sempre in maniera più strutturata, nel porto di Civitavecchia da parte dell'armatore Grimaldi e per consentirli di sviluppare al meglio anche il traffico automotive che ha avuto negli anni e mesi precedenti qualche calo, in termini numerici, dovuto anche a uno spostamento del traffico da Melfi verso Gioia Tauro piuttosto che Civitavecchia, però adesso abbiamo anche il traffico da Cassino che giunge a Civitavecchia quindi si spera che anche questo segmento possa di nuovo continuare a crescere e quindi Grimaldi si è impegnato a raggiungere dei minati target anche in termini numerici sul comparto segmento automotive e lo stessa cosa è l'impegno di Grimaldi anche di aumentare il traffico passeggeri e quindi di ROPAX per Barcellona e le altre linee. Grazie 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 Grazie